Te ha appena detto che domani vi giocate molto, magari non dal punto di vista sportivo, ma in questo spogliatoio quanto si gioca domani? Come si affronta una partita dove siete già qualificati? Beh, sì, credo che essere a qui sia il massimo per un calciatore e giochiamo molto per noi, per il nostro paese, per i tifosi. Quindi questo è il massimo, un campionato comune europeo, poter giocare una partita così e vincere sarebbe sempre il massimo. Prima fila, per favore. Buonasera, Jesus. Sei tra i veterani di questa rosa, l'unico che sa cosa vuol dire vincere un europeo. Che sensazioni percepisci? Qualcosa di simile? Cosa hai percepito nel quotidiano e nelle partite? Beh, le sensazioni sono molto buone dopo le prime partite che abbiamo giocato, un calcio bellissimo, veramente divertendoci col pallone, un'idea di gioco molto buona. E sappiamo che è difficile, che ci manca ancora molto, ma dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra e continuare a lavorare sulla stessa idea. Maglia nera a fila destra? Sì, Jesus. Sei un giocatore veterano, come si ha detto prima. Vorrei sapere, in questo europeo in cui non partecipi magari molto, come porta avanti un giocatore del tuo calibro questa situazione? E che mentalità hai anche, diciamo, nel tranquillizzare i giovani che forse hanno un pochino più di ansia nell'avere venuto in questo torneo? Beh, contribuendo in tutto ciò che posso, cercando di sfruttare i miei minuti a disposizione domani, lavorando al massimo perché stare qua è incredibile. E anche aiutare i compagni, noi che siamo più esperti, farvi vedere come lavoriamo noi, come passiamo il tempo. E sono molto contento di questo, veramente. Maglia bianca a fila sei? Vedendo il calciatore come Lamine, Pedri, i giocatori più giovani che stanno, diciamo, portando avanti questa nazionale, sono molti, molto protagonisti in questo europeo e anche intorno ai precedenti. Come lo sente questo, diciamo, un professionista come te, un veterano come te di club, di nazionale, e vede come sono i giovani che tirano avanti questa squadra? Beh, questo va bene per il gruppo, tutti contribuiamo. Noi cerchiamo di aiutare i più giovani, siamo una famiglia, un gruppo molto buono, e alla fine questo è ciò che, diciamo, ti dà i frutti per avere il successo. Della camisetta grigia a fila dieci. Ciao, Gesù, scusa, sono Juan Jimenez di ASS. Stavo facendo dei calcoli, il giocatore più vecchio vince il mondiale fu Dino Zoff con 41 anni. Se tu vincessi i mondiali fra due anni, saresti, diciamo, il giocatore più vecchio. Fado una motivazione per continuare, diciamo, oppure vuoi rifiutarti prima dal nazionale. Beh, io guardo il giorno dopo giorno, siamo in un europeo, che è molto importante per noi, in ciò che ci concentriamo. Nel futuro non sappiamo niente, sappiamo che stiamo facendo contente molte persone con questo europeo, e dobbiamo continuare a pensare così e poi penseremo nel futuro. Quinta fila, giacca nera. Ciao, Gesù, Romain Lafont dell'equipe. Volevo chiederti su un tuo compagno, Romain Entermont, che è diventato una presenza fissa dall'anno passato, e quindi tu che giochi vicino a lui, qual è la sua forza nel campo? Io penso che abbia un buon tocco di palla, un buon posizionamento è forte perché davanti, che ha una virtù molto buone e ci sta accettando molto a noi. Maglia grigia a fila 8. Una domanda sull'Albania, l'avversario di domani, che è un avversario che ha sorpreso comunque i propri avversari per i primi minuti. Avete quindi posto l'epasi sui primi minuti di partito, oppure siete concentrati sull'evitare che l'Albania possa evitare situazioni pericolo o far gol? Ma noi non siamo sorpresi, sappiamo che se l'Albania è qui è perché si comporta molto bene, sta lavorando in maniera molto unita, sappiamo che è una squadra che è molto solida e dobbiamo essere concentrati di sì nel primo minuto per conquistare la vittoria. Maglia Bianca in fila 6. Ciao Jesús, volevo chiederti se visto la tua esperienza credi che la nazionale spagnola sia la squadra che gioca meglio a calcio e tutto l'europeo. Credo che sia tra le migliori, ci stiamo divertendo molto, ma noi siamo molto umili, dobbiamo tenere i piedi a terra e sapere che ci manca molto ancora, che è un europeo difficile, che arriveranno a partite difficili e quindi dobbiamo tenere la stessa idea, andare avanti partita per partita. Maglia turchese in fila 6. Maglia turchese in fila 6. Ciao Jesús, dopo la partita con l'Italia, specificatamente tutti hanno detto che la Spagna è un candidato forte per vincere il titolo, quindi dopo aver affrontato queste due squadre nelle prime due partite, quali pensi che siano le avversarie principali della Spagna per vincere questi europei? Sì, io penso che ci siano tante squadre forti, quindi è difficile in una partita, puoi avere anche una brutta giornata e quindi dobbiamo sapere che partite dobbiamo affrontare, andare avanti partita per partita, ci sono grandi nazionali e tutte quelle che sono qua hanno le loro possibilità, perché sono arrivate fin qua per un motivo, e noi cerchiamo di essere noi stessi, seguire su questa linea, cercare di divertirci, giocare a pallone e basta. Ciao Jesús, Fernando Burgos, Alvaro Morata l'altro giorno ha cercato di dirci che non si poteva confrontare questa nazionale con i marziani, che siete stati in quel meraviglioso quadriennio 2008-2012, tu che sei stato in tutte e due queste nazionali, che sei anche questa generazione che fa sognare molto, che similitudini vedi con quei marziani? Bene, sono stati degli anni incredibili, quello che abbiamo vinto, quello che abbiamo raggiunto, credo che il gruppo, credo che alla fine ci sia un gruppo molto buono, sia dentro che fuori dal campo, e questo è ciò che ci ha fatto vincere in quegli anni, e a parte del calcio che giocavamo, era incredibile, ma abbiamo la stessa idea, in queste due partite ci sono andati molto bene, stiamo divertendo a giocare a calcio, e vedo comunque la gente che veramente sogna, e che è una sensazione simile a quegli anni. La maglia grigia, la sesta fila. Buonasera. Tante domande su Lamin e Yamal, ma ce n'ho un'altra. Hai visto molto talento, varie stelle che sono emerse nella tua lunga carriera. Cosa dici in specifico di Lamin e Yamal? Cosa ha di speciale? E come lo valuteresti? Come lo compariresti ad altri talenti? Sì, è un livello altissimo, lui, Nico, tutti. Io cerco di aiutare tutti al massimo, è un ruolo in cui ho giocato, ho tanto tempo, è che mi piace molto essere lì, non da aprire il campo andando uno contro uno, cerco di aiutarlo, perché è una posizione che conosco molto bene, e ci sta dando tanto. Altre domande? Bene, prima fila. Zabaleta, il secondo allenatore dell'Albania, ha detto che se dovesse prendere un giocatore della Spagna, sceglierebbe Jesus Navas della Spagna. Non so cosa vuol dire a Zabaleta, e diciamo, come anche incontrare gente a cui vuoi bene. Sì, li voglio molto bene, ho connesso tanti anni con lui nel City, ci siamo divertiti molto insieme al Manchester City, alla fine è un ex compagno di squadra, a cui voglio molto bene, e non vedo l'ora di vederlo domani. Altre domande? Bene, grazie mille per la vostra presenza.